Allora, cos'è mancato nella partita di oggi? È mancato un po' la testa, dobbiamo rimanere più determinati. Purtroppo è un periodo così, dobbiamo rialzarci il più presto possibile. Cosa si deve fare per ripartire in fretta? Di sicuro dobbiamo metterci a posto con la testa e allenarci. Dobbiamo smaltire subito queste sconfitte e ripartire più forte di prima. Ok, grazie.